6 missioni, 16 categorie di spesa, un mare di progetti, molti dei quali già in essere, ognuno accompagnato dall'indicazione dei tempi di realizzazione e questa infatti la condizione necessaria per ottenere finanziamenti dall'Unione Europea, tranche di miliardi di euro che arriveranno sullo stato di avanzamento dei lavori. Avrà una diversa procedura solo l'anticipo dei 23-24 miliardi che dovrebbe arrivare se il piano sarà approvato entro fine luglio, un anticipo che dovrebbe servire per dare avvio ai progetti che hanno come obiettivo la digitalizzazione, la rivoluzione green e un massiccio programma di investimenti. Vale a dire, quella svolta nella storia del Paese tracciata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, come ha detto nel suo discorso di presentazione del piano alla Camera e al Senato il Presidente del Consiglio Mario Draghi, non è solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, di obiettivi e di scadenze, ma un piano da cui dipendono le vite degli italiani, le nostre, ha aggiunto Draghi, ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne, dei cittadini che verranno, le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia. Ma ecco, in ordine decrescenti, di spesa le sei missioni, 57 miliardi per la rivoluzione verde e transizione ecologica di questi, più di 22 per finanziare progetti già in essere, 43,5 miliardi per la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, quasi tutti per progetti aggiuntivi, 32,3 miliardi per istruzioni e ricerca, soltanto poco più di 7 miliardi la parte per progetti già in essere, 25 miliardi a infrastrutture per una mobilità sostenibile, poco più della metà per progetti nuovi, 17,6 miliardi per inclusione sociale, poco più di 4 miliardi per progetti in essere, 15,6 per la salute, che resta all'ultimo posto, come nel piano Conte, ma con quasi tutte le risorse aggiuntive. Delle 16 categorie di spese, più di 27 miliardi riguardano la digitalizzazione del sistema produttivo, 25 miliardi vanno all'alta velocità ferroviaria, 11 miliardi e 600 milioni all'efficienza energetica e alla riqualificazione degli edifici. Il super bonus del 110%, infatti, nell'aborto del piano che a fine mese arriverà alla Commissione Europea, dovrebbe essere esteso al 2023. Ci sono poi 20 miliardi per il potenziamento dell'istruzione dagli esilini dall'università, 10 per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, 15 per la tutela del territorio, 6,6 per le politiche per il lavoro, 7 per la telemedicina e la sanità territoriale, 6 per il turismo, poco più di 5 miliardi per le reti ultraveloci, banda larga e 5G. In sostanza, dei 191 miliardi e mezzo, quasi 69 arriveranno come trasferimenti, cioè a fondo perduto, e poco più di 122 come prestiti. Il Governo cercherà infatti di ottenere fin dall'anticipo di luglio la massima parte di trasferimenti possibile per non aggravare il debito pubblico.